Ciao a tutti. Sono tornato di nuovo a questo altro video tutorial. In questo video ti mostrerò come inviare un'immagine temporanea su WhatsApp. Ciao ragazzi, in questo video vi mostrerò come inviare un'immagine temporanea su WhatsApp. Ora inviamo un'immagine temporanea su WhatsApp e ti mostrerò come farlo. La prima cosa è assicurarti di aver scaricato l'applicazione WhatsApp, quindi aprila semplicemente. Una volta aperta l'applicazione WhatsApp, ti indirizza qui e quello che farai qui ragazzi è toccare la conversazione per aprirla. E quello che farai qui è toccare l'icona del file nell'angolo in basso a destra, quindi toccare la fotocamera. Poi qui scatta una foto semplicemente toccando l'icona del cerchio in basso al centro. E poi qui per rendere questa immagine temporanea come puoi vedere il timer sopra l'icona d'invio, basta semplicemente toccarlo. Successivamente puoi toccare l'icona d'invio per inviare l'immagine temporanea. E questo è tutto ragazzi, come potete vedere, abbiamo finito di inviare un'immagine temporanea su WhatsApp e questi sono i passaggi e le modalità su come inviare un'immagine temporanea su WhatsApp. Grazie per la visione, spero che questo ti possa aiutare.